Le società di mutuo soccorso nascono come risposta fortemente voluta da una parte della società, contadini, operai, agricoltori, che non volevano andare a chiedere beneficenza nel momento in cui avevano un problema soprattutto di salute perché allora non c'era lo stato sociale e quindi hanno deciso in qualche modo di organizzarsi sull'onda di quanto già avveniva in Inghilterra e in Francia e sono state create anche in Italia le società di mutuo soccorso. La prima società di mutuo soccorso è stata fondata a Pinerolo grazie allo Statuto Albertino del 1848 ed è estremamente significativa questa fondazione perché intanto perché lo Statuto Albertino al tempo c'era re, re Carlo Alberto, nello Statuto Albertino oltre a dare il diritto è la possibilità di associazione e quindi la possibilità di creare le società di mutuo soccorso e anche lo stesso Statuto che ha dato i diritti civili agli ebrei e ai valdesi. Infatti nella prima società di mutuo soccorso di Pinerolo hanno aderito sia valdesi che cattolici ed è estremamente significativo che il simbolo della società di mutuo soccorso che sono le mani unite ed è ben rappresentato al museo storico del mutuo soccorso che c'è a Pinerolo in cui queste mani sono quelle di un pittore e di un operaio ovvero non c'era distinzione tra i mestieri chiunque poteva associarsi ed è anche molto molto importante nelle immagini che si possono vedere all'ingresso del museo storico di Pinerolo che gli aderenti alcuni sapevano leggere e scrivere altri erano analfabeti infatti hanno siglato l'associazione al mutuo soccorso con una X e accanto qualcuno gli ha messo il nome. Il bisogno primario era un bisogno legato alla salute perché allora appunto non c'era il sistema sanitario come lo conosciamo oggi quindi tutto era pagamento il medico i farmaci e quant'altro. Quindi una delle prime funzioni della società di mutuo soccorso è stata quella di andare a tutelare i propri soci in caso di malattia quindi la società ha fatto suo un medico che insieme a un socio o più soci andavano a casa del socio malato in questo modo il medico lo poteva visitare per scrivere eventuali malattie il socio volontario invece verificava lo stato della famiglia cioè c'era qualcuno che poteva andare a prendere la legna e metterla nel fuoco non c'era nessuno che poteva occuparsene c'era bisogno davvero di solidarietà quindi il principio del mutuo soccorso è solidarietà e soddisfazione dei bisogni primari di un gruppo di società civile che finalmente si organizza. Partendo dai bisogni della salute le società di mutuo soccorso evolvono nella soddisfazione dei bisogni delle persone rendendosi conto appunto che molti dei soci erano analfabeti quindi fondando delle scuole delle scuole serali in cui il socio però per accedere doveva versare un'ulteriore quota questo per responsabilizzarli perché uno dei principi fondamentali delle società di mutuo soccorso è la responsabilità individuale e collettiva questo perché nel momento in cui io mi approfitto della società o delle iniziative che fa la società faccio un danno a tutti gli altri soci perché il concetto fondamentale delle società di mutuo soccorso è tutti versano per quando un socio ne ha bisogno quindi una delle prime iniziative sono state le scuole serali ma anche le biblioteche biblioteche che venivano allestite sia con libri tecnici operativi e sui mestieri sia con libri di letteratura e un altro concetto fondamentale del mutuo soccorso è la reciprocanza che poi è proprio il titolo di questo filo conduttore reciprocanza che avveniva sì tramite i soci ma anche tramite altre società perché non tutte le società erano così organizzate da poter avere una biblioteca quindi le società più organizzate facevano in modo che ci fosse una biblioteca itinerante che andava presso le altre società allo stesso modo un socio ad esempio della società di torepellice che andava a lavorare a barge se si trovava in difficoltà poteva rivolgersi alla società di barge che si metteva in contatto con la società di torepellice la società di barge elargiva il sussidio al socio di torepellice poi la società di torepellice lo rimborsava nella storia della valpellice significativo è stato ad esempio il caso non mi ricordo in che anno sia avvenuto in cui la fabbrica turati che era una fabbrica di filati è andata a fuoco quindi gli operai di torepellice di luserna sono rimasti a casa e le società si sono trovate in difficoltà perché dovevano dare un sussidio aiutare gli operai in quel momento di grossa difficoltà dall'altra parte non avevano abbastanza respiro quindi le società del pinerolese hanno aiutato le società di torepellice e di luserna e poi una volta che ripresa l'attività le società hanno restituito i soldi quindi questa grande reciprocanza questa grande responsabilità individuale ma collettiva in cui c'era dava proprio il senso della comunità ricordiamoci sempre che i soci dovevano anche comportarsi in un certo modo ad esempio la società di barge aveva istituito il premio di virtù per assi che è stato uno dei presidenti della società di barge per cui a quell'operaio che si comportava bene che non si ubriacava che non faceva schiamarsi perché siamo in epoca in cui tutte queste cose erano estremamente importante veniva elargito un premio pari a un anno di stipendio che era tantissimo parlando di uno scenario un po ampio del mutuo soccorso in valpellice documentazione che è stata rilevata dalla fondazione delle società di mutuo soccorso del piemonte si evince che c'erano sei società ad angronia la maggioranza delle quali erano società di mutuo soccorso in caso di disgrazia o malattia o morte dei bovini che è una cosa estremamente particolare però ovviamente le società si strutturano anche a seconda dei bisogni dei soci e dei bisogni del territorio in cui i soci sono a l'userna san giovanni c'erano quattro società di mutuo soccorso di cui due femminili le società di mutuo soccorso femminile hanno un po una loro storia un pochino a parte perché tra le varie società erano quelle un pochino più in perdita perché la maternità in qualche modo creava un danno nel senso che quasi tutte le donne passavano dal puerperio quindi in qualche modo le società avevano grosse difficoltà infatti c'è stato poi un periodo in cui le società femminili volevano unirsi alle maschili ma molte società maschili non volevano proprio per queste difficoltà a lusernetta c'erano due società di mutuo soccorso a torepellice ce n'erano ben nove di cui una con la denominazione cattolica san giuseppe e l'altra dei militari e a villarpellice due società un'alleanza cooperativa e una società agricola la maggioranza di queste società hanno quasi tutte creato una cooperativa o spaccio alimentare in cui in qualche modo i soci potevano avere gli alimenti più importanti di base come la farina, il pane, l'olio ma anche il vino veniva considerato un alimento di base a dei prezzi in qualche modo favorevoli e calmirati avevano un senso con un'estrema territorialità cioè se andiamo a pensare adesso a Torino anche in ogni quartiere c'è una società era estremamente capillare e ancora oggi le società a livello territoriale sono molto capillari sono magari molto piccole, magari in paesini molto molto piccoli, in frazioncine ma perché erano proprio un presidio per la comunità, per garantire la comunità quindi c'era, per parlare di Angronia, la società della Bacira, cioè della Bacera piuttosto che la società a Serre, cioè tutti i luoghi di Angronia il mutuo soccorso che cosa ha fatto? ha seminato tanti piccoli semi che oggi come oggi hanno creato la nostra società il medico della mutua e quindi il sistema di servizio sanitario in cui tu in qualche modo paghi le prestazioni a un costo minore il sistema pensionistico perché nelle società man mano che le persone andavano avanti si cercava di dare un sussidio per il cronicismo o per l'anzianità l'ausi sociale perché alcune società di mutuo soccorso come ad esempio Torre Pellice nella sua sede ha degli appartamenti che venivano dati ai soci quindi anche una condizione di vita migliore e poi chi di noi oggi come oggi non è andato all'Ipercop? niente di meno che la cooperativa alimentare nata a Torino e poi sviluppata questo per agevolare perché poi è vero che c'era una certa continuità di lavoro da parte dei soci delle società di mutuo soccorso però poteva succedere il periodo in cui non si riusciva lavorare e quindi come fare per garantire i viveri a casa c'era la testa si poteva andare al magazzino sociale allo spazio alimentare sociale